Eliminare barriere e confini, dipingere una galleria di ritratti dell'Europa, valorizzandone la storia e il patrimonio artistico e letterario. E' l'obiettivo della seconda edizione di Europuzzle, il progetto didattico e culturale promosso dalla Consulta Europea del Consiglio e dedicato alle classi quarta e quinta elementare di nove scuole torinesi. Il primo dei quattro appuntamenti, al Circolo dei Lettori, ha ripercorso la storia dello sport europeo, dai primi versi di Pindaro a Gianni Brera. Europuzzle è un progetto culturale e didattico che parla dell'Europa, fortemente voluto dal Consulta Europea del Consiglio regionale e organizzato da noi, dall'Accademia dei Folli, una compagnia di musica e teatro. Da una parte ci sono quindi dei laboratori che noi conduciamo in dieci scuole di Torino, con 250 ragazzini di quarta e quinta elementare. Andranno a comporre un loro personale puzzle europeo. Faremo dei laboratori teatrali, ogni classe avrà un tema e poi faremo uno spettacolo finale. L'altra parte invece è al Circolo dei Lettori e sono degli incontri letterari sui temi trattati nella letteratura europea, lo sport, la musica, il cibo e le città quest'anno.